Camera a mano. Allora, ritornano le monografie. Dopo tantissimo tempo su questo canale, ricordo che il primo format fu proprio questo, con la terribile monografia di Woody Allen, divisa tra l'altro in vari episodi per limitazioni di memoria sul mio telefono dell'epoca, con il quale registravo. Feci anche quella su Tim Burton, quella su Kubrick, su Wells, quella su Cronenberg assieme a Rick Duferre e tante altre, tutte quante assolutamente non memorabili, quindi non vi invito a recuperarle, ma le tengo qui sul canale per affetto. Oggi parliamo di Edgar Wright, perché ultimamente mi sto rivedendo molti film assieme ad Alex, che deve stare tranquilla in queste ultime settimane, dato che manca veramente poco al parto e quindi la sera siamo rilassati e effettivamente Edgar Wright si è rivelata un'ottima scelta, quindi ci siamo fatti tutti quanti i suoi film. Sono film molto ritmati, non sono affatto stupidi, nonostante facciano ridere. La prima opera in assoluto di questo regista non l'ho vista, è praticamente introvabile, realizzata a 17-18 anni, quindi se qualcuno di voi ha un link per poterlo recuperare in maniera legale, scrivetemelo nei commenti. Partiamo con Shaun of the Dead, film famosissimo, l'avrete visto tutti, commedia ispirata a Dawn of the Dead di Romero, ma in generale a tutto l'immaginario zombie di Romero, che tra l'altro si è detto anche molto soddisfatto di questa opera e sappiamo quanto fosse geloso del suo lavoro giustamente. Un film meraviglioso perché al di là del montaggio, che è sicuramente il marchio di fabbrica di questo regista, i suoi film sono così ritmati, così potenti proprio perché il montaggio, il montaggio sonoro, la colonna sonora, sono veramente realizzati con una perizia, con una creatività che difficilmente si trova in registi contemporanei. Anche un Guy Ritchie che sembrava far parte di questa schiera dei registi ipercinetici, ipermoderni, post-talantiniani, in realtà non si è confermato molto negli anni, ha avuto diversi salisceni. Invece Edgar Wright ha sempre fatto dei film eccelsi, per quanto mi riguarda. Anche il da me non troppo apprezzato Baby Driver è un film ottimo, ma ci arriveremo. Anche Wes Anderson, per esempio, è un altro regista che lavora benissimo in tal senso. La storia la sanno un po' tutti. Cittadina, dimenticata da Dio, dove non succede veramente un cazzo, le persone sono attanagliate nella monotonia. Soprattutto i nostri protagonisti fanno veramente una vita dove ci sono gli stessi punti di ritrovo, dove la routine è immutabile, i giorni si susseguono uno identico all'altro. La ragazza di Simon Pegg a un certo punto si rompe i coglioni, soprattutto di questo pub. Il pub è un elemento importantissimo nella trilogia del cornetto. Ne riparleremo anche per gli altri due film, soprattutto per quanto riguarda la fine del mondo, che è il mio film preferito di Edgar Wright, già ve lo dico. Su Seguirsi di eventi spinge il nostro protagonista a sforzarsi. Sforzarsi per portare la sua ragazza a cena in un posto finalmente diverso. Si dimentica come un povero imbecille e da lì lo sfondo, inizialmente questo sfondo del contagio zombie comincia a divenire la narrazione principale. Intanto nei film di Wright ci sono tanti sottotesti. La monotonia, la staticità, l'omeostasi di determinate persone che non hanno alcun interesse ad uscire dalla propria comfort zone. Qua ovviamente farò sempre spoiler, ragazzi. Il finale è ovviamente emblematico, ovvero nonostante questa enorme rivoluzione, quest'enorme cataclisma che si è abbattuto sul mondo, sulla cittadina, questa apocalisse zombie, le loro vite sembrano cambiare, ma non è così. Anche dopo la morte. Una metafora perfetta dell'atteggiamento di molti individui che anche post-dipendenze, e questa cosa verrà ripresa anche nella fine del mondo, tendono comunque a ritornare in quella condizione lì. Nulla può smuoverli perché hanno proprio questa indole alla pigrizia, alla ripetitività. Il film è perfetto, è una delle commedie più belle degli ultimi vent'anni. Prende la lezione di Romero perché capisce, amandolo probabilmente, che il discorso degli zombie deve essere un pretesto per narrare qualcos'altro, qualcosa di sociale. E questo avviene. È inutile che adesso io vi elenchi tutte le gag che mi fanno ridere perché quelle dovrete vederle da sole. Quello che posso dirvi è che questo è il modo in cui bisogna fare una commedia. Dei caratteristi meravigliosi. Cominciare dal padrigno che è uno dei miei attori preferiti in assoluto. Io amo Richard Curtis, quindi i due protagonisti sono perfetti. Ovviamente una coppia che si riconfermerà leggendaria in questa trilogia. Shaun of the Dead, che poi non l'ho detto per decenza, ma per chi non lo sapesse in italiano è stato chiamato L'alba dei morti dementi. Magari qualcuno ha fatto, ah quello, l'avevo visto. Io ricordo ancora quando lo noleggiai ad un blockbuster, quando misero fuori il display per poter noleggiare i film che ti uscivano direttamente come le sigarette o i preservativi. Vidi questa copertina particolare che mi ricordava i film di Romero che avevo già visto, insieme ad un mio amico volevamo vedere un film leggero e proprio credo nel 2004 o 2005, non so quando arrivò in Italia. 2005-2006. Quindi ottimo successo per Shaun of the Dead, anche altri registi mostrano grandi apprezzamenti, Peter Jackson, Quentin Tarantino. Nel 2007 esce il secondo capitolo, tre anni dopo, della cosiddetta trilogia del cornetto. Trilogia del cornetto che viene chiamata tale perché c'è sempre questo piccolo easter egg, ovvero i protagonisti a un certo punto della narrazione sempre andano il cornetto gelato, tipo il cornetto algile. Hot Fuzz vede un totale ribaltamento del ruolo di Simon Pegg. Interpreta un agente, integerrimo, subito il film parte con tutte quante le imprese incredibili, supereroistiche, di questo personaggio che per il suo eccelso lavoro viene premiato come cacciato praticamente in esilio in una cittadina. Anche qui torna il mio amato Bill Nagy, con quella scena delirante. No, ti chiamo il sotto capo, ti chiamo il capo, e tutti quanti praticamente dicono la stessa cosa. Te ne devi andare perché sei troppo performante, quindi ci fai lavorare troppo, perché noi sembriamo poi di nulla facenti, quindi dobbiamo abbassare il livello. Quindi viene mandato in esilio in questa cittadina, che sembra una cittadina tranquillissima, di persone per bene. Scopriremo poi che non è così, inizia subito entrando in un bar, portando un ubriacone che poi, appunto, a Frost è divertentissimo il fatto che lo metta in galera praticamente e la mattina seguente se lo ritrova accanto. Ma come, già sei uscito? Io lavoro qui, quindi fantastico. Anche questo film è meraviglioso, è più comico, ma ha anche un intrigo interessante perché questo geniale, una sorta di Poirot personaggio, comincia a vedere delle cose che non tornano all'interno di questa cittadina. Dei movimenti particolari, delle sorte di logge massoniche che a un certo punto ci vengono esplicitate, proprio con questa tavola rotonda, che sembra Eyes Wide Shut. Tra l'altro c'è una citazione magnifica, a strade perdute di Lynch, non so se l'ho vista solo io, non è una citazione volontaria, ma a un certo punto Simon Pegg guida e viene inquadrata la strada, proprio con questa fotografia molto cupa. Ho fatto un suono stranissimo con la bocca. Questa fotografia molto cupa e inquietante. Quindi il film è assolutamente coinvolgente e nonostante il tutto sia sopra le righe, chiaramente le imprese di questi personaggi non sono realistiche, però ti prende, ti prende perché comunque c'è questo giallo. Tu vuoi capire come stanno le cose in questa cittadina misteriosa, in questi microcosmi, un po' come Twin Peaks, si creano sempre delle situazioni mistiche quasi. Scopriamo quindi tutto quanto il casino, alla fine riesce a risolvere la situazione, grazie a Mark Frost, figlio del capo della polizia di questa cittadina, che era invece un altro facente parte di questa lobby, che vuole mantenere uno status quo di un certo tipo. Anche qui, torna a matematica, trattata nel primo, no? Personaggi che vogliono mantenere... Oddio, ragà, mi è preso un colpo, ho visto un'ombra. Porca puttana, era il vento che ha spostato i rami dell'albero, mio Dio. Personaggi che vogliono mantenere entrambi, tra l'altro, sia quelli della cittadina, sia quelli della grande città, il corpo di polizia. Vogliono mantenere i propri privilegi. Nel caso di Shaun of the Dead, è mantenere la propria condizione da parassita, quasi, no? Anche se poi lavora, sempre costa un po' il parassita della situazione. Però, persone che non vogliono cambiare. Quindi, torna questo interessante dibattito che mette comunque al centro delle sue opere il nostro regista. Anche qui, le scene d'azione, chiaramente, essendo sopra le righe, devono rispettare meno determinati canoni di costruzione, anche coreografici, ad esempio. Cosa che tornerà anche in Scott Pilgrim, che adesso ne parliamo, comunque ha delle bellissime scene d'azione, che però sono forse più facili da costruire a livello di grammatica cinematografica, anche in Baby Driver, perché puoi un po' scavalcare il campo, mettere delle inserzioni, mettere delle incursioni quasi fumettistiche, anzi, a tratti, ad esempio, Scott Pilgrim sono proprio fumettistiche, quindi puoi rompere le regole senza infastidire lo spettatore. in una narrazione più realistica, quindi una costruzione, o simile realistica, di una scena d'azione come può essere un film, non capolavoro, ma valido, come John Wick. Ecco, già lì, seppur non si tratti, ovviamente, di realismo, si cerca di replicare una situazione di combattimento plausibile. Mi viene in mente un altro film che ho visto di recente, La promessa dell'assassino di Cronenberg, perché no, la scena di botte nella sauna, ecco, quella è una scena d'azione costruita da Dio e mantiene determinate regole. Qui si può uscire da quel seminario, quindi in un certo senso è più facile, però c'è bisogno, ovviamente, di una componente creativa che ha assolutamente il nostro caro Edgar Wright. Quindi anche questo è un film stupendo, stupendo sotto ogni punto di vista. Come vi dicevo prima, ci sono molti sottotesti nei suoi film, anche questo protagonista che è totalmente assuefatto dal suo lavoro, è dipendente da questo suo senso di giustizia, senso di lealtà, ma è anche proprio una vera e propria dipendenza, un cosiddetto workaholic. A tratti mi sono anche ritrovato, in definizione di questo tipo, cioè un lavoro che alla fine ti logora dentro, è quasi una promessa che fai a te stesso, è una competizione che hai con te stesso che può logurarti e può rovinare anche i tuoi rapporti interpersonali, cosa che riscoprirà questo personaggio anche grazie all'amicizia con Frost, che tra l'altro gli farà vedere determinati film come Bad Boys e il meraviglioso Point Break. Quindi ci sono anche qui diverse citazioni, si vede che Edgar Wright è un regista colto, in termini cinematografici, altro film bellissimo, non ha avuto lo stesso successo del primo, chiaramente, però comunque i suoi film vanno bene, perché è un regista che riesce a intrattenere chiunque, proprio in virtù di questo suo montaggio frenetico, assolutamente frenetico, è un film che comunque ti tiene incollato, anche se non ami particolarmente il cinema. Cominciamo nel 2010 ed esce Scott Pilgrim vs. The World, un film che era stato già commissionato in precedenza a Edgar Wright, parallelamente al periodo in cui stava lavorando su Ant-Man, che poi venne diretto da un altro regista, quindi lascia quel progetto e si mette al lavoro per questo adattamento da un fumetto. Il finale viene cambiato dall'opera originale e ci troviamo di fronte ad una sorta di videogiocone, però nel senso più positivo del termine, perché il film riprende le classiche narrative, le classiche narrazioni da videogioco. Quindi c'è questo protagonista, una sorta di antieroe, che è predato benissimo da Michael Seedra, che ha questa faccia particolare. Anche in altri film, anche uno che ho visto recentemente, una mezza merda su lui che fa un giocatore di poker. Ha sempre questa faccia, un po' da sfigatello, un po' da nerd, ma anche da ragazzo che può piacere, piacente, comunque ha un suo fascino, ha un suo potenziale. Diciamo che sarebbe stato definito in passato un comico scopante. Adattamento che riesce alla grande, il film riscuote anche ottimi consensi da parte della critica, il pubblico però non lo va a vedere, perlomeno non in maniera massiccia, nel senso che il film va in perdita. Infatti l'Universal, che ha prodotto questo film, infatti all'inizio c'è la scritta Universal in bit, no? Simil gioco, proprio quelli che si utilizzavano ai tempi, con le console all'interno dei bar. L'Universal dichiara che sperano che questo film, nel corso del tempo, diventi un cult, cosa che poi avviene effettivamente, perché è un film che anche qui sul canale mi è stato spesso richiesto, è un film amato, che è cresciuto molto negli anni, un po' come Paura e Deliro a Las Vegas è stato riscoperto in seguito. Anche lo stesso Michael Serra, infatti, disse. È un film complesso, come era complesso, Shaun of the Dead, che con il tempo era rivalutato. Lui è un componente di una band di fidanza con una liceale, arriva questa ragazza misteriosa, che richiama anche un po' la Kate Winslet di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un altro titolo tradotto benissimo in italiano, ovvero se mi lasci di cancello, c'è questo cambio di capelli continuo che mi ha ricordato quel film, meraviglioso di Condri, incontra quest'altra ragazza e se rinnamora perdutamente. Soltanto che questa lega degli ex, di Ramona, vogliono farlo fuori, perché così, perché non possono accettare che Ramona si fidanzi con qualcun altro, quindi tutto il film è lui che deve battere questi spettri, sembra anche un po' una sorta di canto di Natale, quasi, no? Una costruzione magnifica dal punto di vista della colonna sonora, qui è veramente, passo avanti anche alle altre sue opere precedenti, ha sempre curato in maniera maniacale la componente sonora, in Baby Driver sarà ancora più importante, tutto il lavoro tra musica diegetica e non diegetica, lo spiego velocissimamente, diegetica è quando la colonna sonora, la canzone che sentiamo è la stessa che sentono i protagonisti, un esempio, le Iene di Quentin Tarantino, Mr. Blonde, mentre taglia l'orecchio, mette il pezzo e noi sentiamo quello che sente lui, balla, infatti quando esce dal capannone la musica si abbassa, perché lui la sente più basso, ovviamente essendo uscito rientra e ha lo stesso volume, la musica non diegetica è quella che sentiamo noi e non sentono i protagonisti del film. Ventiva, all'ennesima potenza, ci sono split screen che vengono ripresi da film di arti marziali, dai fumetti, come vi dicevo prima, l'azione è costruita bene anche perché qui, Riot, si può permettere tutto, perché è un videogioco, perché è un fumetto, quindi scavalcamenti di campo, split screen, come vi dicevo, inserzioni particolari, onomatopee, elementi che rompono la quarta parete, un po' come, ci diamo sempre a Tarantino, Pulp Fiction, non fare il, queste cose appaiono a schermo, addirittura la censura delle parolacce di un personaggio, quindi qui veramente si dà libero sfogo a tutto quello che può essere un mix tra adattamento, oddio, che è successo qua, la batteria, un mix tra adattamento da fumetto, reso però cinematografico ovviamente. Il film è ritmatissimo e qui, come anche in Baby Driver, riusciamo a capire l'incredibile qualità di Bright nella scrittura della sceneggiatura e soprattutto dei personaggi, perché ci sono dei personaggi che non hanno un background, che non hanno un grande spessore, che magari entrano in scena per pochissimo, ma sono tutti quanti memorabili, un po' come i protagonisti o i personaggi che vediamo per tre secondi nei film di Coen, quindi tutti sono memorabili, il cattivore con questo occhiale, sembra anche un po' la rivincita dei nerd, il film ruba a man bassa, cita tantissimo, tantissimo della cultura nerd, quindi questo è difficile da fare, perché ovviamente un film con tale ritmo che non ti lascia veramente respirare un secondo, rendere anche possibile un'empatia con i personaggi non è facile, non è affatto facile, proprio perché molto spesso queste narrazioni iperveloci tendono a distruggerti quelli che sono i ritmi soliti, necessari per poter un attimo entrare anche all'interno di una struttura che ti consenta, una struttura mentale che ti consenta di immedesimarti nei protagonisti, di simpatizzare per loro, invece questo avviene istantaneamente, subito ti identifichi un po' in Michael Seer, tutto il cast di supporto è fantastico, Brie Larson, addirittura Chris Evans che fa un personaggio sopra le righe, quindi un grandissimo film secondo me. È ovviamente meno interessante dal punto di vista dei temi, non ho molto da dirvi, è una storia alla fine basilare, una classica storia d'amore, quindi non ho chissà quali riflessioni da fare, però è un divertimento di notevolissima fattura. Nel 2013 esce il mio film preferito di questo regista, La fine del mondo, The Worst End. Terzo ed ultimo capitolo della trilogia del cornetto. Abbiamo un cast meraviglioso, il protagonista è sempre Simon Pegg, chiaramente. La trama è questa qui, un gruppo di amici, si ritrova dopo tanti anni, capitanata per l'appunto da Simon Pegg, che cerca di andare a recuperarle un po' a tutti, ovviamente c'è sempre Nick Frost, per tentare nuovamente un'impresa fallita, tanti anni addietro, ovvero ubriacarsi, bere in tutti quanti i locali, cioè una sorta di mappa dei locali da arrivare all'ultimo locale, che è la fine del mondo. Quindi abbiamo dei flashback precedenti, in cui vediamo la giovinezza di questi ragazzi, vediamo Simon Pegg, e quando entriamo nella narrazione principale, vediamo questo personaggio che è decisamente invecchiato. Perché è il mio film preferito? Perché è un film dolente, ne avevo già parlato in un altro video, ma ovviamente ne riparlo anche qui. è un film che mi ha fatto davvero male, è il film più malinconico. Mi diverto quando lo vedo, ma ho sempre un po' di magone, perché in questo personaggio vedo un passato difficile, un tentativo di voler rimanere sempre giovane, mi ricorda anche un po' l'anziana di Pirandello, no? Questa vecchia che tenta di sconfiggere il tempo, truccandosi in un certo modo, acchittandosi in un certo modo, ma le persone ovviamente la percepiscono come una figura grottesca, come un pagliaccio purtroppo, perché puoi illudere te stesso, puoi costruirti dei muri di finzione, ma il mondo vede. Quando ci sono delle disparità tra quello che credi di essere e quello che sei nella pratica. Questo personaggio ha tanti problemi nella vita, dipendenze, vi dicevo che torna a questo tema, personaggio debole, che si presenta come molto forte, anche con questo outfit particolare. Ah, tra l'altro, anche gli outfit di Scott Pilgrim vs. The World sono fantastici, c'è uno dei cattivi che mi sembra Morgan, del Blu Vertigo, c'è veramente anche il lavoro estetico, il lavoro di costumismo meraviglioso. Il momento in cui Simon Pegg rivede il se stesso giovane è qualcosa che ha un pathos allucinante, è probabilmente il più affine a me, è per questo che lo amo così tanto, perché sono spesso attanagliato da questi pensieri, tra dieci anni magari sognerò di ritornare ad essere quello che sono ora, quello che ero qualche anno fa, dal punto di vista estetico, dal punto di vista della performance, anche questa sfida che loro fanno. È ovviamente stupida, ma contiene una sfida, l'ultimo appiglio che questo protagonista ha per rimanere giovane, quindi tentare nella vecchiaia di compiere un'azione che da giovane non gli è riuscita. Anche alcune narrazioni sportive in questo senso mi hanno sempre affascinato, dei grandi campioni che si affermano in tarda età e battono quelli molto più giovani, però chiaramente la natura dopo un po' ti chiede il conto, quindi è una una sfida anche massacrante, se vogliamo, autodistruttiva. Quindi per me questo è un capolavoro e non ho paura nel dirlo, chiaramente non vi ho detto che insomma, intanto sto facendo spoiler, quindi l'avrete visto, che ci sono dei replicanti, quindi tutta questa cittadina un po' come in nel film precedente della trilogia in Hot Fuzz, sono dei finti abitanti di questa città in realtà tutto è controllato da questi replicanti che vogliono conquistare il mondo e poi c'è l'epilogo finale molto bello anche il il post epilogo quindi quello che succede dopo l'incontro con questi alieni è molto bello c'è questa sorta di ritorno alla ruralità una sorta di Mad Max sempre con Simon Pegg che rimane capitano rimane un leader nonostante le sue problematiche forse anche questo è importante da sottolineare no? quelli che riescono ad emergere anche come leader sono spesso quelli più in conflitto con loro stessi quindi grandissimo film il migliore per me nel 2017 esce l'ultimo film di Edgar Wright che è Baby Driver allora io ne avevo parlato brevemente forse in qualche live avevo accenato qualcosina in un video qualche commento e giustamente molti di voi mi hanno detto Marra ma sei pazzo? secondo te questo non è un bel film? ovviamente no io ho semplicemente detto che è un film che non mi ha fatto impazzire che non mi piace particolarmente però intanto me lo sono rivisto per la terza volta perché sorprendentemente è l'unico film di Edgar Wright di cui possiedo il Blu-ray perché? perché gli altri l'avevo visti magari al cinema oppure come vi ho detto al blockbuster eccetera questo è uscito nel 2017 e me lo sono immediatamente comprato in Blu-ray non riuscii a recuperarlo al cinema non so per quale motivo me lo sono comprato quindi l'ho rivisto per la terza volta ieri allora anche grazie a voi quindi fate bene diffidate sempre da quello che vi dico se avete un determinato gusto esprimetelo e se non la pensate come me ovviamente scrivetemelo e se ne discute quindi io sono il primo a cambiare idea soprattutto perché parliamo di valutazioni di opere cinematografiche posso sbagliare soprattutto non stiamo parlando di temi particolarmente importanti per il futuro dell'umanità quindi l'ho rivisto per la terza volta e l'ho apprezzato di più quindi intanto grazie comunque per me rimane il film meno potente di tutto quanto il lavoro di Edgar Wright è quello che mi è piaciuto meno perché allora innanzitutto dal punto di vista registrico probabilmente è il migliore dal punto di vista del montaggio sonoro è il migliore il lavoro tra musica diegetica e non diegetica come vi dicevo prima è pazzesco lo dico velocessimamente Baby è questo protagonista un autista richiamo un po' Drive tutta quanta la scena iniziale infatti mi ricorda quella di Drive di Nicholas Windingreff che finisce con lui che scende dalla macchina nel parcheggio si mette il cappelletto e va via il cappelletto dei tifosi della partita del baseball qua è simile finisce nel parcheggio escono e cambiano macchina scena iniziale meravigliosa il fischio la cufene che ha il protagonista è gestito alla grande quando si leva le cuffiette noi sentiamo questo fischio nel momento in cui diviene quasi totalmente sordo c'è un lavoro veramente magistrale quindi da questo punto di vista è un film che fa scuola veramente che deve servire come pietra miliare se qualcuno vuole davvero comprendere come utilizzare il montaggio sonoro la colonna sonora in un film però ciò che non mi fa impazzire è il fatto che un inizio così potente un montaggio davvero eccessivamente eccessivamente veloce in questo caso non c'è alcun respiro nonostante le dinamiche siano sempre le stesse cioè è sempre questo tizio baby che deve correre con la macchina eccetera e uno potrebbe dire ah beh ma che cazzo vuol dire anche Mad Max lo schema è sempre lo stesso chiaro il problema è che non ho trovato un crescendo quindi inizia in maniera così potente che ti prende per la prima mezz'ora 40 minuti sei dentro poi piano piano il ritmo nonostante non cali è sceso il mio interesse perché si viene coinvolta la ragazzetta c'è il pericolo anche del suo diciamo padre adottivo anche qui i personaggi che sono iconici cioè tu riesci subito ad empatizzare con questo personaggio magnifico sordo muto con la ragazza si innamorano in 3 secondi però ti sembra credibile quindi tutto funziona alla grande che mi spesi funziona sulla carta è un film ottimo e lo è per mio mero gusto personale ha smesso di interessarmi dopo i 40 minuti forse per l'infallibilità di questo protagonista che è davvero un supereroe però se in Scott Pilgrim lo accetto se in Hot Fuzz lo accetto anche perché c'è un intrigo comunque da svelare c'è un giallo nonostante il protagonista sia un supereroe ha tutta la città contro e devi capire qualcosa qui non c'è molto da capire stai lì ed aspetti che ci sia una scena spettacolare dopo l'altra che arriva ma nonostante si cerchi di cambiare sfondo dinamiche che alla fine non riesce poi a darmi quella fascinazione non c'è tensione alcuna non era nell'intento ovviamente ma se il protagonista è immortale infallibile anche se poi finisce in un determinato modo però la percezione che tu hai non c'è neanche tensione e quindi lo vedi perché ovviamente il ritmo è forse nato ma non è un film che ho voglia di rivedere particolarmente anche perché l'ho visto già tre volte ma alla fine del mondo l'ho visto cinque volte e lo rivedrei anche adesso uguale Shaun of the Dead è un film che sostanzialmente non mi ha lasciato nulla non era il suo intento è un film di forma film di pura forma con per carità una bellissima storia d'amore anche qui in realtà non differisce troppo da Scott Pilgrim sarà forse che non so c'è una componente comica più forte c'è tutto questo mix tra animazioni prese dal fumetto animazioni prese dal videogioco hanno calamitato di più la mia attenzione anche Baby in realtà è forte come impostazione anche visiva con questo occhialetto questo viso accattivante con gli sfreggi dovuti a questo incidente bello anche il discorso sulla madre questa cassetta il fatto che lui remixi le parole degli altri che registri tanti ipod in realtà le invenzioni visive sono tantissime ho accusato la ripetitività delle meccaniche ok ho accusato la mancanza di tensione l'assenza di una forte componente comica non per forza necessaria non è detto che Edgar Wright debba girare per forza commedie questo è un action alla fine un action puro sì con dei toni ovviamente con gli ardici ma non ci sono battute ogni tre secondi come nei film precedenti quindi lo reputo personalmente il film meno interessante ma comunque validissimo e dieci spanne sopra tutti i film ad azione che vedo quindi è un mio gusto non uccidetemi semplicemente tutte le riflessioni che sono riuscito a fare con gli altri film quelle che vi dicevo sulla vecchiaia sulla monotonia sui rapporti interpersonali qui non ci sono quindi è un film più scarro e avendo già visto Scott Pilgrim rivedere comunque quel tipo di impostazione traslato in un film del tutto action mi suscita particolari riflessioni e dal punto di vista dell'intrattenimento per me ha funzionato a metà nel senso che dopo 40 minuti ne avevo già abbastanza in quel momento poteva benissimo finire il film per me forse avrei preferito una maggiore concentrazione di eventi un po' una sfoltita un film che poteva durare un'ora e mezza con un ritmo forse più bilanciato qui essendo sempre troppo over nonostante ci sia un minimo calo prima del prologo mi ha reso il tutto monochord quindi tenere sempre questo ritmo a palla dove ha funzionato in Scott Pilgrim anche perché c'era un abbassamento dei toni nei momenti romantici con la coppia che quando va a casa sua per fare sesso c'era lì quindi c'è un abbassamento c'è il momento in cui sta con gli amici e poi c'è lo scontro qui comunque il protagonista è sempre con le cuffiette quindi è sempre altissimo il ritmo del film ecco questo ritmo eccessivo tenuto sempre oltre la soglia mi ha reso il tutto monocorde mia personale opinione ovviamente il film è bello e quindi è giustissimo che voi mi diciate Marra stai dicendo delle stronzate il film è in capolavoro va benissimo così niente ragazzi io spero che questa monografia vi sia piaciuta che qualche riflessione interessante sia scaturita dalle mie cazzatine commenti quello che volete pareri sui film di Edgar Wright e consigli per le prossime monografie ciao